Hashtag noi amiamo gli animali. Il cane ha paura dei bambini, cause e rimedi. Se il nostro fido sembra socievole con tutti ma appare impaurito dalla presenza dei piccoli umani, la cosa non solo è piuttosto diffusa ma ha anche una serie di cause alla base. In questo nuovo video pensato per voi da noi di Amore a Quattro Zampe vi daremo tutte le indicazioni sul perché e cosa fare se il cane ha paura dei bambini. La sua famiglia potrebbe rimanerci male eppure un cane che ha paura dei bambini è piuttosto frequente. Infatti si tratta di una reazione naturale di fido che non sa come rapportarsi a un bambino col quale molto probabilmente non è cresciuto. Se ne ha paura lo si capisce dall'andatura, dallo sguardo e dai movimenti del corpo e della coda. Le cause dunque possono essere una mancata socializzazione fin da cucciolo, paura per gli atteggiamenti apparentemente aggressivi e le urla dei bambini, movimenti incontrollati dei piccoli umani che spesso non si accorgono di far male al nuovo piccolo amico a Quattro Zampe. Ma come facciamo a capire che fido ha paura? Solitamente tiene lo sguardo basso e il corpo schiacciato a terra, la coda è bassa, le orecchie sono appiattite, può avere perdite di urina, ansima e si lamenta. Al contrario potrebbe anche mostrarsi aggressivo in segno di difesa, ma solitamente si limita ad abbaiare e ringhiare senza mai aggredire fisicamente il bambino che gli incute timore. Se notiamo uno o più di questi segnali è opportuno allontanare il bambino dal cane, evitare di punirlo e mettere in sicurezza fido. Se vogliamo provare una convivenza facciamo in modo che i due facciano amicizia sotto la supervisione del padrone. Se la situazione non dovesse cambiare o dovesse peggiorare affidiamoci a un educatore cinofilo e valutiamo insieme una terapia riabilitativa. Per questo video è proprio tutto, se volete scoprire tutte le altre curiosità sul perché il cane ha paura dei bambini cliccate sul link dell'articolo corrispondente. Ma non solo, volete maggiori approfondimenti? Scopriteli sempre nel link che trovate qui sotto. E il vostro cane come si comporta con i piccoli umani? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i video di amore a 4 zampe. Ciao ciao!